Cristian Prosperi, passato ormai da un anno al doppio ruolo di giocatore ma anche direttore sportivo a Bucine, analizza i primi giorni di allenamento del collettivo Arancio Verde sotto la direzione di Mister Coppi, pensando anche al numero elevato ancora di giocatori a disposizione in vista della stagione regolare. C'è insomma da pensare a quali tra i tanti fuori quota possano essere utili al progetto della stagione. Abbiamo un programma con i Mister, ci stiamo conoscendo, proprio dei ragazzi vogliosi come l'anno scorso, quindi le prospettive sembrano siano importanti. Parlo anche al direttore sportivo, non siete un po' troppi? Sì, diciamo sono tanti giovani, anche gli juniori, si stanno valutando per trovare i ragazzi che ci daranno una mano qui alla fine, quindi questione di giorni, poi la ruota sarà ridotta a 22-23 giocatori. Coppi che vi sta dicendo? Coppi ci sta insegnando i trucchi del mestiere, l'allenatore esperto com'è, lo vedo carico a 2000 come giusto che sia e i ragazzi stanno seguendo al massimo.